Il barbaro assassino del generale della chiesa e della sua giovane moglie non soltanto ha suscitato in tutto il paese profonda commozione ma ha posto in drammatica evidenza la gravità del fenomeno mafioso. Per estirparlo aveva chiesto pieni poteri il generale della chiesa, lo Stato non gliele aveva dati, era solo e lo sapeva, ma al suo fianco nei cento giorni a Palermo non aveva paura di restare la moglie di 30 anni più giovane appena sposata Emanuela Setti Carraro, morta accanto a lui. Al volante di quell'auto normale, la 112, l'attentato in via Carini il 3 settembre 1982. A un passo l'auto di scorta ha bersagliato dai colpi della mafia che uccidono anche l'agente Domenico Russo. Ci si è resi conto, come ha detto il presidente Pertini, che la sfida allo Stato democratico è giunta a un livello non più tollerabile. Aveva solo 32 anni Emanuela, sapeva di rischiare la vita sposando il generale dalla chiesa ma forse nelle corsie d'ospedale dove prestava servizio come infermiera aveva imparato a fare dono di sé e poi il suo amore era più forte della paura. 54 giorni d'amore, tanti ne sono passati dal matrimonio all'attentato. Oggi Borgosesia, nel Vercellese, il paese dove è nata, la ricorda con un'opera d'arte. Anche nella statua, sulla fontana e accanto al marito, il generale mette il suo cappello a un bambino, quasi un passaggio di testimone. Sembra che più passa il tempo, più si rafforzi la memoria e questo è un miracolo del rapporto tra un popolo e i suoi rappresentanti, tra un popolo e i suoi martiri. Più si va avanti e più si ricordano.